Amici di milan.soccer ben ritrovati su questo canale, vi ricordo come sempre un piccolo gesto per noi fondamentale l'iscrizione al canale e il like a questo video, vi ricordo inoltre che in descrizione potrete trovare niente po' di meno che la nuova rivista è arrivata, Vocabolario Milan, ogni lettera dell'alfabeto corrisponde ad una curiosità per cui se mi dite stop, ditemi stop, stop lo dico da solo, la G di GAF, azione inopportuna, che cosa sarà successo di inopportuno nella storia del Milan? Beh andatelo a vedere voi stessi, grazie grazie perché con questo potete aiutarci a sostenere il canale link in descrizione, come vi dicevo Amazon ve lo porta a casa, solo 10 euro, leggetelo in spiaggia, in montagna una rivista, ogni 6 mesi ne esce una, era uscita già Romanzo Milan, è uscita questa Vocabolario Milan se volete vederle tutte sul nostro sito www.milan.soccer allora iniziamo subito perché che settimana ragazzi, che settimana? Beh sì, è vero, se noi in questo momento mettessimo, come dire, uno stop al nostro calciomercato ad oggi, diciamo che abbiamo solo Morata, ma non ci dobbiamo fermare ad oggi, per fortuna anche se adesso ci sarà una trasferta difficile in quella degli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America, incontriamo le big d'Europa, anche loro non vi preoccupate, arriveranno rimaneggiate, però insomma il Milan cercherà in tutto e per tutto di tenere alto il proprio blasone, ma veniamo al calciomercato che è la cosa che più ci interessa, dunque la prima notizia riguarda Samarzic, perché l'Udinese ha fatto sapere, perché è una settimana importante, perché in questa settimana mi auguro che il Milan vada a chiudere tre colpi, vale a dire Samarzic, Fofanà e Pavlovich. Beh innanzitutto dicevo partiamo con Samarzic, l'Udinese ha fatto sapere che vuole soldi, vuole cash, beh posso dire cara Udinese che hai bussato nella tana del lupo, da un lato hai bussato nella giusta direzione, cioè il Milan ha cash, dall'altra diciamo che i nostri, come si chiamano, i T-Rex, ecco i nostri dirigenti sono i T-Rex, i T-Rex non riescono a chiudere le braccine, le braccine cortissime e quindi il club friulano dice, fa sapere che non vuole contropartite tecniche, vuole solamente appunto il denaro, il vil denaro. Vediamo se si chiuderà l'operazione, ma diciamo subito che a quanto pare la cosa si può fare. Per me è un buon colpo, ve lo dico subito, non guardiamo all'ultimo anno, l'Udinese l'ultimo anno veramente aveva poco da dire, ma guardiamo ad un giovane di grandissime prospettive, guardiamo ad un giocatore che è stimato dalle big d'Europa, certo non farebbero follie per averlo perché deve riprendere la sua corsa, ma il Milan credo che sia il progetto giusto, ma la cosa che mi piace da matti è vedere come gioca Pavlovich. Ora, se noi facciamo un salto indietro nella nostra storia, qual è? Vi faccio una domanda. A proposito di domande, avete visto in copertina, ho messo l'ultima puntata di Chi vuole essere milanista, dovete indovinare le 10 domande, quindi dare le risposte e poi ce n'è una che volutamente ho sbagliato e le dovete indicare. Grazie tanto a Tania, Enrico, Alfonso, Michele che hanno risposto. Chiudo la parentesi. Allora dicevo, se noi andiamo indietro nel tempo e guardiamo con attenzione a qual è il ruolo più importante della nostra storia, è sicuramente il centrale di difesa, perché lì abbiamo avuto il meglio del meglio del meglio. Prendiamo per esempio su tutti la numero 6, Franco Baresi e poi ancora vogliamo parlare di Nesta, di Tiago Silva, vogliamo parlare di Abstam, ma vogliamo parlare anche di Maldini che c'è stato, di Costa Curta, insomma per il Milan un ruolo essenziale. Negli ultimi anni io pensavo, pensavo che in qualche modo il Milan da questo punto di vista si fosse ripreso e invece nell'ultima stagione abbiamo sofferto troppo, tantissimo, sia Ciao, sia Tomori, sia Kalulù, che cosa ho sempre detto, non so, molti di voi seguono il canale fin dall'inizio, altri sono di, diciamo così, ci conoscono da poco, io dico sempre manca la gattusite, cioè quella faccia, passatemi il termine, quella faccia cattiva, quella faccia vogliosa di vincere, quel mordente che aveva appunto Gennaro, Gennaro Gattuso, e non solo lui, uno Abstam me lo ricordo, ma in questo caso se andate a vedere le immagini di questo giocatore, vi posso garantire, e le immagini su tutte sono la partita contro l'Inter di Lautaro Martinez, quando insomma questo gigante, questo toro rosso nero, visto che gioca con la red, rosso bull, toro rosso, adesso è diventato rosso nero, e sì perché l'affare è veramente agli sgoccioli, mi auguro che il Milan, che ha una proposta di 18 milioni contro i 25 milioni del Salisburgo, beh insomma si chiuderà, si può chiudere a 20, in questo caso il possibile, diciamo quasi certo, arrivo di Pavlovich, che è visto con enfasi, è da parte personalmente con enfasi, spero di non sbagliarmi, ma sicuramente uno di quelli che a volte o passa la palla o passa il giocatore, cioè tutte e due insieme non possono passare in alcune circostanze, come nell'ultima, caro amico Gabbia, caro amico Bartesaghi, ho visto le ultime partite, l'under 19, l'amichevole, dai, non è possibile con quella signorilità, il campo, la signorilità si applica ad una festa di gala, magari per inaugurare, che so, un caffè letterario, no, lì in campo o passa la palla o passa il giocatore, oppure ti chiami Franco Baresi, cioè passa il giocatore, se ne vai, la palla te la porto via, ma purtroppo non possiamo più avere questi super campioni. Con l'approdo del difensore serbo, un giocatore del Milan potrebbe ritrovarsi con le valigie in mano e il deputato sarebbe Malik, Malik, ciao, lo dice nome Omen, dicevano, nome Omen, nel nome scritto il destino, Malik, ciao. Secondo, diciamo così, alcuni giornali, il ciao comunque non andrebbe male, per lui ci sarebbe ancora il Newcastle che vorrebbe questo giocatore. Questo approccio con il Newcastle, vabbè, poi ne riparleremo in un secondo momento. Abbiamo detto di Samarzic, abbiamo detto di Pavlovich e ora è il tempo di parlare anche di Fofanà. Anche su Fofanà io mi auguro, mi auguro che si possa trovare, visto che c'è l'accordo con lui, manca l'accordo con il club, si possa trovare la chiusura del cerchio e il Milan chiude con 4 giocatori per me importanti come Fofanà Samarzic, Pavlovich e Alvaro Morata. Non sarebbe finito il calciomercato, ci sono altri nomi, ma intanto sicuramente andiamo a vedere quello che succede. In uscita, secondo Tutto Sport ci sarebbero Benasser, Adli e Pobega, secondo qualcun altro Daniel Maldini, io stamattina ho fatto un pezzo su Daniel Maldini, certo che forzo la mano, magari possa incidere un mio video per lo 0,0001% dell'opinione pubblica e allora mi farebbe davvero piacere, ma io credo che alla fine Fonseca lo terrà. Va bene ragazzi, è tutto per adesso, grazie per averci scelti, ci vediamo più tardi e ciao ciao!